Un personaggio che osserva la nostra società, ne vede tutte le magagne, tutte le forme violente e cerca di dare in qualche modo dei consigli, di dare delle indicazioni, delle diritte per poter risanare una società che effettivamente sta intanto verso il baratro, attraverso forme di follia e di violenza. Viene da un altro pianeta e osserva con distacco e in modo molto severo la realtà che incontra. È Nicola Calderone nel suo ultimo libro Il Vangelo di un alieno a portare in viaggio il lettore nel nostro presente. È un personaggio soprattutto che conosce molto bene la nostra classicità, il nostro mondo antico, il pensiero antico dei più grandi protagonisti sia della letteratura che della filosofia e quindi basa il rinnovamento su questi concetti che appartengono al mondo classico, quindi al passato. Un passato che purtroppo la nostra società contemporanea ha completamente ignorato. Ma il protagonista, Prometeo, non è soltanto un testimone nel suo mandato anche il compito di impedire il declino definitivo e l'imbarbarimento della società civile. La nostra società si sta avviando verso un baratro veramente disastroso. Speriamo veramente che le istituzioni soprattutto reagiscano e cercano di dare delle indicazioni precise su come ravvedersi e su come proseguire sulla strada della normalità. Questo è il consiglio che dà a questo alieno, ripristinare la normalità del modo di vivere.